Furto aggravato e ricettazione di 200 quintali di ferro della Scandiuzzi SRL nella zona industriale di Brindisi. Accuse costate l'arresto in fragranza di reato di Antonio Leo, brindisino di 33 anni, già sorvegliato speciale, e la denuncia per altre due persone deferite in stato di libertà. I tre sono stati bloccati dagli agenti della seconda sezione della squadra mobile di Brindisi, coordinata dal vicequestore Alberto Somma, nel corso di una operazione di ricerca partita alle prime luci dell'alba nei pressi dell'azienda dalla quale il materiale ferroso, composto da lastre, posizionatori, profilati, alberi bareni e altro per un valore di circa 10.000 euro, era stato rubato. L'area furtiva era stata caricata su un camion destinata al mercato illecito dello smaltimento ferroso, da quanto riscontrato dalla polizia, il presunto responsabile del furto è il brindisino Antonio Leo, che in seguito a controlli personali è stato ritrovato in possesso di altro materiale rubato dallo stesso capannone Scandiuzzi. Tutta l'area furtiva è stata restituita all'azienda. Sono aumentati negli ultimi tempi nella zona industriale di Brindisi i furti. Diversi sono i furti registrati a rame e al ferro delle varie aziende della zona industriale, continuamente nel mirino dei ladri. L'attività di indagine della polizia comunque prosegue per verificare altre responsabilità.